Cosa rappresenta questa medaglia? Allora, sul fronte della medaglia è rappresentata una pergamena nella quale è racchiusa tutta la storia di questi 40 anni del calcit e vi è incisa anche una piccola dedica a tutte le persone che in questi anni hanno sostenuto il calcit con le loro donazioni. Il dono, questo è il nome scelto per la medaglia creata dagli studenti dell'Istituto Margaritone di Arezzo per celebrare il 40esimo mercatino del calcit che andrà in scena domenica 13 maggio e al quale prenderanno parte oltre 1000 bambini con quasi 500 banchi. Certamente è l'anno molto importante per noi e per il calcit perché sono 40 anni che è nata questa associazione. Noi ormai sono 13 anni e qui quest'anno c'è un significato veramente molto particolare. Di conseguenza abbiamo anche noi lanciato una sfida ai nostri alunni e questi ragazzi di seconda hanno fatto veramente una bellissima medaglia. Le medaglie sono state realizzate in 2000 esemplari, verranno donate domenica 13 durante il 64esimo mercatino dei ragazzi e domenica peraltro quest'anno è il quarantennale della presenza del calcit della fondazione del suo presidente Gianfranco, commendatore Gianfranco Barulli e non dimentichiamoci del grande Franco Palazzini che ha realizzato il mercatino dei ragazzi. Il calcit ovviamente rappresenta una delle associazioni più importanti del territorio aretino dell'intera Toscana. Proprio per questo i nostri ragazzi hanno sposato fin da subito questa bella iniziativa e accompagneranno la realizzazione della medaglia anche al mercatino del calcit. È stata un'esperienza bellissima che ci ha proprio aiutato a capire come si fa e come si lavora.